Avvocato Suti, il real estate è in ripresa. Gli studi legali come affiancano i clienti in questo momento così importante per questo comparto? Il mercato è cambiato. Il real estate tradizionale, ovvero la compravenda e l'immobile, è solo una componente marginale di quello che stiamo vedendo. Oggi le operazioni sono un po' più complesse. C'è una parte di stress che sta diventando molto rilevante, quindi la componente è la ristrutturazione. Sono ripartiti gli sviluppi che oggi implicano anche competenze di tipo urbanistico e ambientale. La componente fiscale è molto rilevante, quindi oggi è diventato sempre più un approccio di settore che implica competenze diverse e team che lavorano insieme. Grazie Avvocato.